Dopo quasi 20 giorni di preparazione iniziamo questa nuova avventura. Iniziamo con una dura partita che è il bianco. Una squadra ben attrezzata, una squadra di categoria che ogni anno arriva sempre nelle prime posizioni. Con un grande mister che io conosco bene. Andiamo a affrontare con lo spirito giusto. La squadra è pronta per affrontare questo campionato. Diciamo che siamo ancora un cantiere aperto, però la società ci sta mettendo tutta la volontà per almeno per già la prossima settimana di avere la squadra al completo. Una squadra piena di ragazzini, tutti di Bagnara, che abbiamo voluto fortemente insieme alla società. Diciamo che sono dei ragazzini ben posizionati fisicamente, ben messi fisicamente, però sono dei ragazzini che da tanto tempo che non giocano e con tutta la voglia che ci stanno mettendo negli elementi pian piano riusciamo, e il lavoro che stanno facendo, pian piano riusciamo a portare avanti questa squadra. Mi associo a quello che ha già ben detto il mister. Siamo un cantiere ancora aperto, però i ragazzi stanno rispondendo bene, soprattutto a livello atletico. Dovevamo un po' di dubbi, di perplessità, perché avendo iniziato in ritardo pensavamo che i ragazzi potessero avere qualche difficoltà. Invece stanno rispondendo abbastanza bene, stanno tenendo molto bene fisicamente. Anche ieri hanno risposto molto bene, abbiamo fatto un allenamento congiunto con la prima squadra di Rosarno, che è nell'altro girone, sempre della prima categoria. 0-0, i ragazzi hanno giocato bene. Per sabato abbiamo tutti a disposizione quelli che sono tesserati, recuperiamo anche Michelangelo, Spoleti, che con la sua esperienza può darci una grossa mano. Fortunatamente non abbiamo ancora infortunati, facciamo i dovuti scongiuri. e aspettiamo il bianco, che sappiamo tutti che è una squadra molto preparata e molto esperta, che, come ha detto già il mister, da sempre milita in queste categorie, conosce bene questi campi, queste categorie e questo tipo di partite. E niente, speriamo bene per i ragazzi.